Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi ultimo video di Competition is Life del 2019 da marzo rincomincerà la stagione però vi assicuro che ci saranno anche altri video prima rincomincerà la stagione con tante nuove gare e tanto tanto divertimento dunque ragazzi mi raccomando lasciate like quando vedete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando superiamo i 100 like per questo video e nel prossimo video a commentare ci sarà anche il mio compagno di squadra mi raccomando ragazzi ricordatevi la data il 27 27 di gennaio uscirà la seconda parte e parte finale di questo video credo di aver detto tutto dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video buongiorno buongiorno ragazzi sono le 6 e 30 del mattino scusate non l'ho ripreso un po' ma un po' così ma vedete sto guidando non è semplice tenere una fotocamera in mano tra l'altro e quest'oggi ultima gara dell'anno con il mio rivale di campionato esattamente così oggi cercheremo la vittoria in coppia dunque adesso andiamo al raduno prendiamo un bel caffettino perchè ho dormito ben 4 ore e mezza quindi potete capire la mia voglia appena finita la gara di tornare a letto quindi dai andiamo al raduno va là guardate non c'è nemmeno proprio un po' di luce fuori fa ancora buio sono ben 6 domeniche che mi sveglio alle 6 per andare a pescare chi me lo fa fare non lo so però ci vediamo al raduno non c'è nemmeno Grazie a tutti. 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 Vediamo. Oh, oh, oh. Bello, ce l'ho bello. Ce l'ho bello. Ok. c'è bohomi di tutte le categorie qua o prima o dopo c'è nel senso o ferra subito o aspetta un attimo ahia sentivo croc sentivo un croc ho un ascol di cavedeni sotto questa è una buona cosa c'è un ascol di cavedeni sotto c'è un ascol di cavedeni sotto c'è un ascol di cavedeni sotto Pesca i rubasenchi e ti trovi meglio Ehi, ehi Ehi, tessi mio, tessi mio, c'è anche roba Ehi, vabbè Maniglia, se vezza questa canna non ti senti ben come che il tiral è molto morbida rispetto a quel che sono abituato Questo c'è bello, questo c'è bello, questo c'è bello C'è bello, bello, bello Ok Oh, l'ho slamata Via Cosa è Ehi 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 sta bello, tia Sì. Ok, ho rischiato di perdere l'acqua, ma vabbè, il pesce in assa, quello è l'importante. Dai, dai Kri, dai. Dai, 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 dai. Oh bravo! Oh... Opa! Quando hai uma escolha O que há? Vê o telefone A me a gente... A gente vai se ver A gente vai se ver A gente vai se ver No, 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 no. Grazie a tutti Oh! 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 It's become so I can feel you there This 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 There There credo che bisogna immaginare un filo ok vai Cri vai Cri non c'è il filo non c'è il filo eh? non c'è non c'è il filo no penso che fosse un filo più leggero hai visto che ha girato? hai visto che ha girato? no vengilo ok oh oh no va fan cool è martelletta ok 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 oh porca merda chicca vedo anelli c'è la la bolo c'è la la bolognese dai 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 non perda tempo madonna cosa vai merda devo incollarli un altro po devo buttargli un po di colla guarda che pesa l'uva vale 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 devi tirare via in via le penne devi mettere in via le scuame con l'attac vai 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 dobbiamo recuperare dobbiamo recuperare il tempo perso i pesci persi la recupera stratina primi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate la condividete video iscriviti al canale se non siete ancora iscritti vi ricordo il 27 gennaio la seconda parte del video sempre alle 13 dunque ragazzi per questo video è tutto ciao a tutti